Buoni tre anni in questa quarta del convegno, la fila è completa, Bull Mail, Bye Bye King Tony, Baghera degli Dei, la più gettonata, Bripido Jet, Butterfly Griff, Biaggio Jet, Barraguda Gar e Black Degli Olivi. Quindi, otto buoni tre anni in questa quarta del convegno, distanza del miglio, l'errore di Biaggio, partono arretrati, Barraguda e Black Degli Olivi, gli altri arrete, va via la macchina in velocità. E si lotta per il comando, con Bye Bye che tenta di rientrare a Bripido che passa, e così il jet dell'omino al comando. Lancio che se ne va in tredici e mezzo, punta subito in avanti, Baghera degli Dei, la Mago d'Amore del Goccia Goccia. Viene a chiedere strada, classico freeway, la targata Dei, dopo quattrocento metri di gara in ventinove e due e al comando. Sposta dai birilli Bull Mail, che prende la via del largo, lo segue, Butterfly, al comando, il numero tre, Baghera degli Dei. Quarantaquattro e sette, da uno quattordici e mezzo in seicente, Bull Mail dà un severo attacco a Baghera degli Dei. Bull Mail insiste, gli rientra l'avversario con la piegata. Mezzo miglio in un minuto e qualche virgola. Ora si deve adeguare Minopoli e Baghera torna con mezza figura davanti al comando. Si completa il chilometro in quattordici e quattro, poi c'è il brivido dietro i due, ma i due prendono vantaggio. Bull Mail tenta di ritornare, si difende bene la maga d'amore di goccia a goccia. Tredici e quattro, un due vinti e sette e otti, tre e quattro di miglio. Allunga Baghera degli Dei e prende netto vantaggio. Retta d'arrivo con la Baghera al comando, su Bull Mail che tenta di riproporsi. Baghera sostenuta, il palo si avvicina, si riprende goccia d'oro, torna il sorriso dopo la beffa della corsa precedente. Uno cinquantasette e quattro, chapeau, uno tredici e quattro. Ma chi corre alla grande, chi stracorre è questo Bull Mail, questo ancora mago d'amore, accoppiato di papà. Mago d'amore, che stallone, signori, chapeau. Ieri abbiamo visto anche il rientro del campione, figlio di mago d'amore, in quel di Bologna. Primo piano, ecco, della Baghera degli Dei, facciamo i complimenti a Cavalli, che ha allevato una cavalla del genere, scusate il gioco di parole. Terzo, appartenendo a un'altra corsa, vedete le immagini scurrono, dovrebbe essere Barracuda in grande crescita, grazie allo sciupino. Ligna lo studio.